salve a tutti friends al vostro super coriste gamer parliamo di nazionale lo so nazionale italiana francamente è finito questo ciclo di partite di nations è finito male nel peggiore dei modi perché purtroppo abbiamo preso una scoppola incredibile dalla germania e questo ci ha dimostrato ragazzi come sostanzialmente ci eravamo illusi nelle prime tre partite di nation di essere tornati subito a dei livelli mostruosi e non è così è chiaro che in tutto ciò di chi sono le colpe le colpe sono da dividere un po tra vari fattori ma non ci possiamo nascondere dietro un dito secondo me mancini non può essere più l'allenatore dell'italia perché non credo abbia più le motivazioni le giuste caratteristiche per questa nazionale allora prima di partire con questo video vi dico iscrivetevi al canale lasciate un like seguite su tutti i miei social iscrivetevi al primo canale super coriste 84 sul canale telegram delle offerte super coriste offerte amazon tutti i giorni metto il migliore offerte di amazon tecnologie videogiochi c'è il canale ufficiale super coriste 84 per le news in anteprimi sondaggi con cui scegliere quello che devo portare sui miei canali c'è fruit lab e c'è twitch dove stasera torna una trasmissione a bella live con gran turismo 7 le gare online allora ragazzi sostanzialmente il discorso qual è io penso che ogni allenatore che guida una nazionale dopo la vittoria di un grande torneo dovrebbe prendere e abbandonare il ruolo perché in nazionale vincere un grande torneo è diverso che vincere in un club nel club giochi tutti gli anni quindi magari vinci un anno un anno non ti va bene è comunque la possibilità anno per anno per riprovarci la nazionale gioca un grande torneo ogni due anni e se tu pensi quante cose possono accadere in quel lasso di tempo dopo aver toccato l'apice è ingiustificato ma soprattutto quando tu è una nazionale come quella italiana che dopo ogni grande vittoria di un grande torneo storicamente perde smalto e entra in un periodo difficile lo abbiamo visto perché berzotti vinci mondiali e dopo entra in una serie di casini che portano al mondiale 86 dove l'italia fa cagare lippi vince mondiali e dopo inizio un periodo dove anche lo stesso lippi torna nel 2010 dove non combina più nulla perciò mancini vince gli europei e abbiamo visto quello che è successo allora io penso che l'allenatore furbo dice ho vinto basta è finito questo ciclo mancini purtroppo non è stato così lippi lo aveva fatto quando ha vinto i mondiali intelligentemente salvo poi stupidamente tornare alla guida della nazionale mancini poteva tranquillamente dire ragazzi il mio l'ho fatto basta più di questo non si può andare perché era convinto di andare in catara a fare non so cosa dopo una vittoria di un europeo ragazzi che segna a vedere l'italia non era la più forte ma neanche lontanamente l'italia aveva un grandissimo portiere un'ottima difesa un buon centrocampo ma non era la più forte senza attacco è riuscito a vincere con un gruppo coeso e stupendo dal punto di vista del gioco e della grinta il problema adesso qual è ragazzi ci voleva un cambio radicale dopo gli europei da parte dello stesso mancini visto che è rimasto di gioco di filosofia e di uomini lui doveva capire sono calciatori che non erano in forma continuare a puntare sul blocco juve in difesa un blocco juve che quest'anno in campionato non è stato così accelso neanche in champions league è sbagliato continuare a puntare su gente come giorginio a centrocampo che ha fatto una stagione di merda e sostanzialmente è stata colpa sua principalmente che non si andate gli europei perché ha sbagliato l'imponderabile dovevi non puntarci c'erano giocatori molto più forti italiani quindi io sono sempre contro gli oriundi perché gli oriundi sentono la maglia molto meno degli italiani si poteva puntare su giocatori italiani forti su tonali su altri che potevano farti girare la squadra ed erano giovani avevano grinta un attacco dove noi avevamo già da inizio stagione si erano visti in forma gli scamacchi raspadori e questa gente qua ci potevi puntare zagnolo comunque ha fatto una buona stagione ci potevi puntare ed invece si è continuato a puntare sui velotti sugli immobili gente che il nazionale non la butta dentro neanche se gli sbatte contro la palla e va in porta svia allora dico io sto progetto giovani lo potevi fare prima che poi c'è da rifondare e riformare tutto il discorso qualificazioni mondiali in europa ragazzi se si continua con questo format è chiaro che squadre come l'italia altre squadre importanti rimarranno fuori perché tu non puoi con due tre pareggi in non so quante partite di qualificazioni rimanere fuori dai mondiali è vergognoso un'italia che non ha perso mai dove bisogna trovare un metodo di fare magari un paio di gironi con tutte le squadre dentro e le prime quattro cinque di ogni gironi si qualificano è chiaro che le squadre più forti sarebbero emerse sempre l'italia sarebbe andata ai mondiali tu non puoi sbagliando pochissimo non andare ai mondiali a discapito di squadracci come la svizzera che non servono a niente ragazzi parliamoci chiaramente l'italia volete mettere il blasone è quello che ti porta gli ascolti mondiali e non la svizzera la serbia queste squadre qua su con tutto il rispetto però certamente tu sapendo questo dovevi innanzitutto stravolgere il metodo di gioco non l'hai fatto è continuato a giocare nello stesso modo degli europei con gli stessi interpreti e le squadre ti hanno preso le misure infatti squadre che hai asfaltato agli europei nelle qualificazioni mondiali ti hanno asfaltato loro e alla fin fine hanno asfaltato hanno fatto pareggiare non hai vinto alla fin fine non siamo qualificati per questi mondiali quello già per me era un prendere mancini e dire grazie mille ti ringraziamo per il mondiale tutto via si apre un nuovo ciclo sono allenatori come Gattuso De Zerbi giovani e che ti fanno giocare in maniera diversa che erano secondo me gli ideali per fare i commissari tecnici della nazionale invece no si è continuato a puntare su mancini mancini per chiaramente un obbligo ha stravolto tutto è andato pure bene perché dopo l'ennesima figuraccia del 3 a 0 con l'argentina chiama tutti questi giovani giovani che hanno fatto grandi partite prima di quella di ieri sera però sostanzialmente hai stravolto ogni volta la formazione e secondo me non era neanche il caso perché stiamo facendo la nations ragazzi e comunque ti dà punti per il ranking per le qualificazioni europee mondiali prossime dovevi puntare sui migliori hai puntato su gatti su questi giovani non è che ogni volta hai mettere i mancini gente esterna continua a puntare sempre sugli stessi non puoi fare un attacco con raspadori Gnonto e l'Eppolitano che è gente che pesa 20 kg ci vuole l'attaccante fisico come tutte le squadre migliori hanno ci vuole l'attaccante che controcazzi devi far giocare sempre gli scamacca sta gente qua purtroppo è andata male adesso la nations vedremo come finirà perché le prospettive non sono delle più rose raga io non so quali prospettive abbiamo con questo commissario tecnico io sono molto preoccupato perché secondo me non ce n'è non ce n'è per cambiare rotta perché non ha le cognizioni mentali lui di cambiare rotta nelle sue scelte io penso che bisogna accantonare subito i vari Giorginio, Bonucci sta gente qua bisogna subito accantonarla e partire subito con un ciclo perché abbiamo i giocatori, abbiamo tanti giovani anche l'Under 21 si è qualificata per gli europei quindi l'Italia ha un ricambio generazionale continuo ci sono grandi giocatori anche di 20-22 anni in Italia torna a chiesa, bisogna puntare su quello perché ragazzi cioè non possiamo fare queste figuracce noi siamo l'Italia, aveva azzeccato 30 e passa risultati utili consecutivi ha fatto il record sì con squadre anche di secondo livello però intanto le devi vincere le partite e non possiamo vedere questo scempio per me Mancini va rimosso spero che se non lo rimuoveranno, cosa ormai chiara che almeno abbia una cognizione di quello che deve fare per cambiare lo stato delle cose e dare fiducia a gente forte io penso che lo stesso Balotelli avrebbe meritato una chance in questa nazionale così povera di gol perché Balotelli sostanzialmente in Turchia aveva fatto una buona stagione quindi vediamo cosa accadrà ragazzi francamente sono ormai perplesso e deluso per un risultato che non ci voleva di farci prendere in giro dalla Germania gli avversari peggiori insieme alla Francia che ci possono prendere in giro vediamo cosa accade fatemi sapere la vostra ciao guaglio oh 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 Grazie a tutti.